Ciao. Bentornato al programma tv di oggi con notizie come. Uno storico ex compagno di Belen Rodriguez torna a parlare della loro bellissima storia d'amore. Le rivelazioni agitano Stefano De Martino. Stefano De Martino e Belen Rodriguez stanno insieme da molti anni ma più volte hanno messo fine alla loro chiacchierata e bellissima storia d'amore. In passato sono stati separati per anni. Entrambi hanno avuto altre relazioni sentimentali. Lei ha anche avuto una figlia con l'ex Antonino Spinalbese. Anche quando sembrava che tra i due fosse finita definitivamente hanno poi sorpreso tutti riconciliandosi. Dopo l'ultimo ritorno di Fiamma non si sono più separati. Non si mostrano spesso insieme sui social ma quando lo fanno la complicità e l'intesa tra loro è palese. Il loro amore è sempre stato fortissimo, ed è per questo che sono sempre tornati insieme. Nei giorni scorsi sembra che alcune rivelazioni dell'ex stricò di Belen Rodriguez abbiano un po' agitato Stefano De Martino. Di chi si tratta? Di Marco Borriello. L'ex calciatore è infatti tornato a parlare della relazione avuta in passato con la favolosa Argentina. Marco Borriello torna a parlare della sua storia d'amore con Belen. Cosa ha detto l'ex calciatore? In un'intervista concessa al Corriere della Sera Borriello ha chiaramente detto che è stata proprio quella con la Rodriguez la storia più importante della sua vita. I due sono stati insieme per circa quattro anni. Scoppiò subito la passione e l'amore tra loro quando si incontrarono per la prima volta nel 2004. Erano però molto giovani quando andarono a vivere insieme. Lui stesso ha fatto sapere che era una storia d'amore immatura e acerba, tra due ragazzi. La loro è stata però una relazione molto importante e quando hanno deciso di prendere strade diverse sono rimasti in buoni rapporti. Marco Borriello pensa che Belen Rodriguez sia una ragazza solare e simpatica. Quando la incontra la abbraccia. Ad oggi tra loro c'è quindi solo amicizia. La loro storia d'amore appartiene al passato e De Martino non ha nulla di cui preoccuparsi. Parlando della sua vita privata l'ex calciatore ha rivelato di non essersi mai sposato a differenza di molti suoi colleghi. Il motivo? Perché molti si sposano giovanissimi e poi tradiscono. Lui ci ha tenuto a precisare di non essere mai stato un traditore. Quando era fidanzato non ha mai avuto altre segrete relazioni. Ad oggi Borriello è single. Pensa di aver fatto bene in passato a scegliere sempre se stesso. Ha poi continuato dicendo che si vive l'emozione quando ne ha voglia e occasione. In futuro però sogna di diventare padre perché a parer suo un figlio è importante. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale. Per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.